Più che la mano della criminalità organizzata, la spinta ai guadagni facili, fatti coi soldi sporchi, i soldi della droga, cocaina soprattutto. Ecco come e perché una madre e i suoi quattro figli, tutti di un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, hanno deciso di mettere su un'organizzazione capillare, meticolosa, attenta, avendo come base la gestione del bar Cristallo e Castelli Romani e come finalità lo spaccio dello stupefacente a Pavona e negli altri comuni limitrofi. Era la madre dei quattro fratelli che poi teneva un po' le fila dello spaccio dei figli e era molto agguerrito in termini di ascesa, di prestigio criminale nell'ambito della zona di Pavona e dei Castelli Romani. Cosicché l'attività degli stessi era incessante, neanche vari episodi di arresto in fragranza appunto per detenzione di spaccio sufficienti ne poteva costituire deterrente. E allora dopo indagini avviate nel gennaio del 2013, questa mattina i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Velletri dietro richiesta della Procura, ordinanza che ha previsto il carcere per sei persone. Dietro alle sbarre sono finiti tutti e quattro i fratelli e gli arresti domiciliari per altre quattro, madre dei ragazzi compresa. All'operazione hanno partecipato bene 70 uomini dell'arma, cani antidroga ed un elicottero del nucleo carabinieri pratica di mare. Contestualmente sono state eseguite altre 22 perquisizioni. Nel complesso l'operazione ha consentito di segnalare 95 persone, sequestrare cocaina e soldi anche questa mattina. Migliaia e migliaia di euro di certo provento dello spaccio. Mesi di attività investigativa dunque che hanno consentito di capire quanto articolato fosse il modus operandi della famiglia. Giovani messi a libro paga, turni di spaccio H24, di notte il lavoro toccava ad un fornaio, il bar usato come luogo di incontro, ma per sviare le forze dell'ordine la famiglia si muoveva anche a piedi oppure usava mezzi di proprietà dei clienti del bar. Ora le indagini proseguiranno per capire se anche altri componenti di questo nucleo familiare fossero coinvolti negli affari illeciti.